in collaborazione con MED STORP Buonasera a tutti i gentili telespettatori benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione dunque è rimasta la Megabox Vallefoglia a proseguire la stagione con le semifinali playoff con Sassuolo per la promozione nel massimo campionato di Serie 1 femminile mercoledì c'è stata gara 1 domani a Montecchio è la seconda sfida domenica sempre al Palladionigi l'eventuale Bella è stato invece un fine settimana direi amaro per le due compagini maceratesi all'ultimo step è terminata la corsa verso la Serie A2 della MED STORP che comunque ha forse poco da rimproverarsi nella sua serie con Motta di Livenza ed è uscita anche la CBF Balducci eliminata al Golden Set proprio da Sassuolo dopo una partita maratona e rocambolesca di questo ma anche di altro parleremo con i nostri ospiti e ritroviamo dopo sei mesi Massimiliano Hortensi coach della Videx Grotta Zorina ben trovato Massimiliano Buonasera con lui Riccardo Minucci ciao Riccardo ciao responsabile della comunicazione del club grottese ma anche conoscitore ed appassionato della palla a volo della nostra regione ci togliamo subito il dente coach parliamo un po' di voi con Brugherio non vi è riuscita l'impresa di rimontare quella che vi era riuscita con Palmi a distanza ormai credo di tre settimane penso che rimanga un po' di amaro in bocca perché siete usciti contro una squadra decisamente ostica ma forse tutt'altro che irresistibile sicuramente rimane l'amaro in bocca rimane perché nonostante Brugherio abbia dimostrato di essere una squadra solida abbia dimostrato di essere una squadra che comunque c'era delle ottime individualità una squadra molto fisica e noi insomma contro squadre così siamo sempre andati in sofferenza però in entrambe le partite l'amaro in bocca c'è perché abbiamo avuto le occasioni per poter per poter portare a casa intanto gara 1 per poter allungare la serie però in tutte le occasioni che abbiamo avuto durante quelle due partite per un motivo o per l'altro le abbiamo sciupate quindi poi alla fine alla fine in una semifinale playoff quello lo paghi senti tecnicamente cosa ha fatto la differenza in queste due partite probabilmente leggendo anche le cronache il vostro approccio e anche qualche errore nei momenti decisivi no? d'altronde a questi livelli i dettagli sono molto importanti direi fondamentali probabilmente da fare la differenza sono due aspetti quello della gestione dei momenti cruciali da parte nostra quello è un aspetto secondo me importante ma è altrettanto importante secondo me rimarcare che Brugherio comunque ci ha avuto dalla sua parte due prestazioni dell'opposto insomma di altissimo livello cosa che in attrezzo si vede poco non siamo abituati a vedere numeri di quel genere poi in finale ho letto ha fatto una marea di punti non è bastato poi ne parleremo sì sì assolutamente ragazzo che comunque ha fatto ha messo in difficoltà da solo anche Portoviro che comunque è una squadra che molto attrezzata che rispetto all'anno scorso dove no eravamo eravamo noi in combutta con loro ha cambiato poco anzi ha aggiunto dei tasselli per rinforzarsi ancora di più anche contro di loro sto ragazzo ha fatto delle grandi prestazioni quindi direi che questi due aspetti secondo me hanno fatto un pochettino differenza volevo iniziare a coinvolgere anche Riccardo Minucci dunque guadagnano il pass per la serie A2 Portoviro e Motta di Livenza domanda bruciapelo le due squadre più forti secondo te Riccardo beh difficile poterlo dire in toto perché come sappiamo gran parte della stagione è stata disputata su due gironi differenti per cui girone bianco e girone blu secondo me la Videx ha le sue qualità grandissime qualità dimostrate nell'arco di una stagione e che comunque un playoff fatto in sofferenza in alcuni momenti non cancella cioè il primo posto nella regular season parla chiaro dopodiché Motta di Livenza e Portoviro erano sicuramente due squadre che sapevamo fossero squadre da battere con cui fare i conti il gioco degli incastri nei tabelloni playoff ha facilitato la possibilità che entrambe si potessero trovare nella miglior posizione possibile per salire e poi ecco insomma un po' le varie situazioni degli altri incontri hanno fatto il resto quindi indubbiamente grandissime squadre dopodiché dire che ci fosse tanta differenza tra di loro e dico la Videx dico comunque la squadra regione blu insomma ci si dovrebbe confrontare ancora riflettere un pochino ancora di più perché non c'è stato modo di avere un confronto diretto ecco quindi li sospendo un pochino il giudizio su questo la morale insomma è che il Veneto esulta le marche masticano Amaro su Portoviro ti sei espresso coach su Motta di Livenza che comunque contro la Mestola ha vinto quattro partite su quattro dodici a due nel conto dei set e le cifre parlano chiaro Ah Motta di Livenza una squadra che nell'arco nell'arco della stagione ha dimostrato una grandissima solidità ha dimostrato comunque oltre va bene all'individualità di gamba che è un ragazzo che quest'anno insomma ha avuto dei numeri strepitosi però hanno avuto insomma nell'arco dell'intero campionato un gioco sempre molto lineare molto concreto quindi direi solo complimenti per Motta per coach Lorizio che comunque è un amico un collega che stimo molto grande esperienza lo ricordiamo in Italia non solo hanno fatto un gran lavoro secondo me perché è una squadra che giocava una palla a volo una palla a volo molto concreta una palla a volo insomma dove è vero che c'era un terminale d'attacco che magari si prendeva più responsabilità degli altri però si percepiva insomma che c'era un gioco comunque non so se hai visto in gara 2 poi hanno spadroneggiato al centro per esempio marcando ferocemente Dennis e praticamente forse la chiave tecnica è stata questa ho fatto i complimenti al nostro ex Arienti che comunque in gara 2 ha fatto una partita strepitosa quindi si hanno fatto un gran lavoro di muro difesa sono riusciti a contenere praticamente per tutte e due le partite Dennis e comunque un giocatore un pochettino più di riferimento per la Mezzastor secondo me la partita si è decisa molto lì e molto al servizio dove è molto di divenza una squadra che mette grande pressione Riccardo tu conosci anche un po' l'ambiente Messastor anzi lo conosci bene quattro partite quattro vittorie di Motta di Livenza dicevo 12 a 2 hanno spadroneggiato al centro Macerata poteva fare qualcosa di più era oggettivamente difficile poter rendere la vita ancora più dura a Motta di Livenza ecco si sapeva che era una sfida complicata per Macerata ci si arrivava con grande entusiasmo dell'ambiente da quello che potevo percepire anche parlando un po' con i diretti protagonisti quindi c'era senza dubbio la voglia di provare un po' a reagire dopo la brutta esperienza durante la regular season però effettivamente Motta di Livenza ha dimostrato sul campo di avere un altro livello io credo che alla fine i maceratesi abbiano in cuor loro accettato il verdetto del campo insomma rimane qualche piccolo rammarico secondo me scusami la serie è svoltata anche molto in gara 1 perché 34-32 un terzo set praticamente in mano lì si poteva rimettere un po' in gioco quella partita assolutamente si si poteva provare sono quei crocevia come anche lato grotta abbiamo vissuto nella serie con Brugherio sono quei dettagli come dicevamo in apertura che spesso possono cambiare la storia di una serie trovarsi ai vantaggi in set chiave provare a girarli spesso e volentieri penso alla gara 1 a grotta zolina contro Brugherio dove davvero lì al tie break ma anche prima insomma ci sono state diverse occasioni per poter fare il nostro il match e lì poi chiaramente una volta persa quel treno è difficile raddrizzare il tutto e con Motta di Livenza nel caso della Mestor Macerata senza dubbio Motta è una squadra che non concede seconde chance insomma per cui scappata via quella credo che per Dennis e compagni sia stata impossibile lì forse c'è senza forse c'è anche il grande rimpianto di non aver praticamente mai visto l'accoppiata Snip e Dennis che in serie 3 sarebbe stata assolutamente devastante vedremo poi se ci saranno speranze di ripescaggio ci sono delle situazioni difficili in specie a Ravenna ma anche in serie A2 ci sono delle situazioni da un po' definire specie dopo la pandemia Macerata lo sentiremo tra poco nelle interviste manifesta la volontà e il desiderio di un eventuale ripescaggio se se ne presenta chiaramente le possibilità anche se riccato siamo a maggio poi molte situazioni possono degenerare altre se ne risolvono in genere d'estate poi siamo in una stagione un po' particolare questa dove comunque l'elemento covid ha spostato i calendari ha creato diverse situazioni molti campionati sono ancora in corso di svolgimento per cui sarà un mercato strano sarà un mercato particolare e quindi chiaramente forse siamo ancora un po' all'inizio prima di poter dire se effettivamente siano concretizzabili o meno certe voci di acquisizioni o di passaggi di categoria la posizione della Vitex su questo tema diciamo siete vigili? assolutamente assolutamente perché vigili e disponibili? sì 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 perché comunque insomma essendo arrivati i primi in regular season siamo siamo davanti agli alti nell'ordine dell'ordine dei ripescaggi eravamo noi e Motta di Livenza Motta di Livenza è salita quindi se ci fossero delle situazioni da prendere in considerazione noi siamo siamo alla finestra verifichiamo perché per l'ambiente di Grotta insomma fare la Serie A2 sarebbe sarebbe una bella spinta riporterebbe secondo me grande entusiasmo non che non ci sia però darebbe un ulteriore un ulteriore slaggio parliamo anche di una 2 Massimiliana a girone unico quindi diversa rispetto a quella di alcuni anni fa dove ci sono adesso stiamo vedendo insomma Taranto Brescia ma anche Cuneo anche altre realtà insomma si comincia a vedere della pallavolo di di medio alto livello va la mettiamo la mettiamo così tra l'altro fuori onda tu mi illustravi il tuo punto di vista sulla Serie A3 che non è così feroce come quello di altri ecco la mettiamo così insomma c'è anche del buono in questo campionato criticatissimo forse anche a ragione sotto certi aspetti ma c'è anche del buono secondo te qual è questo buono se lo vuoi dire coran popoli io penso che insomma il lato negativo è sotto gli occhi di tutti che verso il basso ci sono a volte delle partite dove il livello è più vicino magari a quello della Serie B però a onor del vero c'è da dire che questa Serie A3 ci ha dato l'opportunità di conoscere tanti giovani tanti giovani che altrimenti in Serie A insomma probabilmente non avrebbero non avrebbero giocato e soprattutto sta diciamo innescando un po' il meccanismo in molte società in Italia di promuovere giocatori del territorio giocatori del settore giovanile quindi un po' la crisi economica un po' il fatto che comunque questo è un campionato che permette qualcosina in più dal punto di vista tecnico secondo me insomma stiamo generando la possibilità per tanti ragazzi di mettersi alla prova in un campionato che comunque è vero che verso il basso non è di altissimo livello però è altrettanto vero che insomma Grotta Lazzolina l'anno scorso Porto Viro quest'anno sono arrivate quasi in fondo alla finale di Coppa Italia quindi no no poi abbiamo visto anche i playoff si è un mestor motta di Rivenza a livello tecnico ha espresso dei valori ha espresso dei valori il tuo pensiero Riccardo su questa serie sono totalmente d'accordo anche io ho avuto poi quest'anno campionato davvero entusiasmante proprio per le età anagrafiche molto giovani con la Videx è un'idea un discorso che Massi e tutta la dirigenza portano avanti da molto tempo ed è veramente bello poter vedere come sia un territorio che faccia parte direttamente della squadra e che quindi sia un valore aggiunto proprio alla stessa squadra e avere un palcoscenico che comunque è una serie A e che quindi comunque propone un'attenzione alla tecnica alla tattica ad un campionato che quindi è comunque si pone sul livello superiore a quello degli altri insomma serie B e categorie sotto è un ottimo banco di prova e di crescita dopo di che confermo anche io il discorso una piazza come quella di Grotta Azzolina storicamente ha nel DNA la serie A2 lo abbiamo vissuto e hai vissuto anche tu da commentatore da giornalista tante stagioni al Palagrotta e che stagioni quel catino infuocato per cui indubbiamente poter tornare nel posto che ci compete diciamolo sarebbe un bel obiettivo sarebbe un bel traguardo però è anche virtuosa l'idea di tornarci con le proprie forze nel senso di poter crescere i propri giovani di poter fare questo passo che sia parte di un processo e non un passo più lungo della gara non c'è dubbio poi in serie A2 entrano in campo meccanismi anche diversi perché vai a confrontarti con delle piazze professionistiche di un certo livello per cui il territorio va bene ma poi devi confrontarti anche con altre cose intanto sentiamo le interviste di Lorenzo Ottaviani con Adriano Dipinto e con il vicepresidente Gianluca Tittarelli proprio a botta caldissima dopo il match di sabato contro Motta di Livenza sentiamo coach Adriano Dipinto possiamo dire una cosa comprensibile l'amarezza della sua squadra ma ha vinto la formazione più forte ma sì loro hanno dimostrato sia in campionato che in questo playoff di essere bravi di contenere bene i loro difetti e oggi l'hanno dimostrato l'ennesima volta dobbiamo fargli solamente complimenti avete lottato ci avete creduto però è mancato quel qualcosa nei momenti recisivi sì siamo stati un po' sporchi non siamo stati precisi su alcune ricostruzioni soprattutto che c'eravamo con fatica recuperati non siamo riusciti a essere molto cattivi con la battuta o meglio loro hanno aggiustato dopo il primo e il secondo set un po' la ricezione quindi abbiamo fatto tanta fatica su quello però nonostante questo a parte quest'ultimo set che poi fino a metà poi piano piano ci hanno ci hanno staccato per il resto devo fare solo i complimenti alla mia squadra alla mia società a questi ragazzi sicuramente ai nostri grandi esperti ma anche ai nostri giovanissimi perché hanno fatto un campionato straordinario dopo un mese e mezzo di covid ricominciare tutto da capo veramente posso che solo ringraziarli per questa stagione che state d'animo c'è stasera? beh dispiace perché realmente questa nostra squadra meritava di arrivare a gara tre e poi giocarcela sulla bellissima però evidentemente poi quando siamo stati lì nel campo qualcosa ce lo siamo persi e loro quando hanno visto al terzo set che riuscivano a contrastare hanno preso sempre di più in largo quindi questo è quanto insomma ci tocca questo però insomma aver giocato e aver perso alla finalissima dopo questa stagione è complicatissima comunque ripeto è una bella prestazione di questa società che deve andare avanti in serie A testa alta con il vicepresidente Tittarelli della Med Store Macerata commentiamo questa sconfitta ma soprattutto commentiamo questa stagione oggi hanno vinto i più forti credo ci sia poco da dire assolutamente faccio i complimenti a Motta di Livenza che ha dimostrato sia nel campionato perché ricordiamocelo questa è una squadra che è stata sempre prima e anche in questa fase di playoff contro di noi quantomeno hanno meritato la promozione con due gare veramente notevoli ai miei dico che comunque bravi perché ce la siamo giocata quasi fino in fondo nel senso che poi gli ultimi punti come è normale che sia un po' la tensione è calata e abbiamo un po' mollato però è stata la fine di un cammino che ricorderemo per sempre perché questo è un anno difficilissimo per lo sport in genere e lo stato anche per noi siamo partiti a inizio stagione con il covid con tantissime difficoltà sono stati bravissimi a arrivare fino a qua poi un grandissimo girone di ritorno e un grande avversario poi in semifinale esattamente un grandissimo girone di ritorno lo sottolineo perché hanno rappresentato nel migliore dei modi la città macerata in Italia di questo ne siamo veramente sempre orgogliosi è un nostro impegno e l'hanno fatto bene fino in fondo ahimè alla finale playoff una squadra deve vincere ha vinto la più forte adesso si apre una lunga estate del volley sarete i vigili nel caso si dovesse aprire qualche opportunità per la 2 sicuramente sì la società ambisce a quel a quel campionato non è l'abbiamo sempre detto era bello conquistarlo sul campo ma se ci fossero dei ripescaggi noi saremo sicuramente vigili e attenti perché vorremmo fare il salto a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti